Gentili telespettatori, buona giornata. Striscia la notizia con la sua inchiesta, mette con le spalle al muro Fratoianni, la moglie Piccolotti e il compagno Bonelli, quello dei sassi del fiume, il patriarca Bonelli. Voi direte, chi è Fratoianni? Fratoianni è quello che dormiva sulle ONG, ve lo ricordate, no? Ed è quello che insieme a Bonelli, il patriarca Bonelli, hanno portato il mitico Soumaoro in Parlamento e oggi prende un bello stipendio pagato con le tasse degli italiani. L'inchiesta distriscia la notizia, dice, su Soumaoro Fratoianni, la Piccolotti, la moglie, Bonelli, sapevano tutto. Beh, il sospetto che sapessero tutto c'era, però adesso arriva la testimonianza. Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia, riaccende riflettori sul leggendario deputato con gli stivali, Aboubacar Soumaoro, quello col pugno, gli stivali erano prestati comunque da uno che veramente lavorava nei campi, che poi gliel'ha anche chiesto indietro, dammi e ridammi gli stivali. Ecco, arriva la testimonianza di Elena Fattori, eletta nel Movimento 5 Stelle e passata con la mitica sinistra italiana, quella di Bonelli, Fratoianni, Piccolotti. Nel 2019, prima che scoppiasse l'inchiesta, aveva la senatrice Elena Fattori, aveva visitato la cooperativa Caribou, gestita dalla suocera Mukamitsindo, la suocera dell'onorevole Aboubacar Soumaoro, e dice così, rimasi colpita dalle condizioni di degrado del centro, gli operatori lamentavano la mancanza degli stipendi, e poi ribadisce Fratoianni, che con Bonelli ha candidato Soumaoro alla Camera, non poteva essere all'oscuro di tutto, perché io, dice la Fattori, avevo avvisato lui e anche la moglie di Fratoianni, Piccolotti. E poi non ho mai capito perché si è costruito il personaggio Soumaoro. Vorrei che Diego Bianchi e Marco Damilano facessero un resoconto del perché, del perché, nonostante le evidenze, abbiano voluto sostenerlo. Quindi la situazione nel Foggiano dei migranti era arrivata a Roma già prima delle elezioni di settembre 2022. E poi avevano ricevuto, Fratoianni e Bonelli, il patriarca, avevano ricevuto delle lettere spedite da persone che conoscevano bene questo Soumaoro e avevano avvertito Bonelli e Fratoianni non lo candidate, non è quello che sembra, attenzione, ve ne pentirete, vedrete quello che succederà. Lo hanno eletto lo stesso senza neanche rispondere alle email di queste persone. Pensate che uno era anche un parroco, cioè non è che era un mitomane, era un parroco che diceva attenzione, non è quello che sembra, attenzione, non candidatelo. E loro lo hanno candidato lo stesso, sapendo quello che vi ho appena raccontato. Elena Fattori si chiede perché, non ho mai capito perché si è costruito il personaggio Soumaoro. Beh, Elena Fattori, è semplicissimo perché si è costruito il personaggio. Salvini stava per tornare al governo, con un governo di destra, sarebbe diventato poi vicepremiere, era matematico, e allora avevano bisogno dell'anti-Salvini. L'uomo di colore che arrivava dall'Africa, che era stato un bracciante, e sembrerebbe che non lo sia mai stato, quindi un sindacalista di immigrati africani che avevano già messo sulla prima pagina dell'Espresso, dove c'era Soumaoro e Salvini che ho scritto questo è un uomo e no, come dire Soumaoro è un vero uomo e Salvini non lo è, quella famosa copertina dell'Espresso, ecco, il personaggio Soumaoro serviva come anti-Salvini, doveva essere questo astro nascente della sinistra che avrebbe poi portato una valanga di voti a sinistra italiana, perché avevano questa testa di serie, questo fuoriclasse, questo sindacalista dei braccianti, e poi si è scoperto che era tutto costruito, era tutto selfie finti, manifestazioni finti, festivali prestati per far finta che lui stava lavorando, insomma, questo Soumaoro si era costruito una immagine e ce l'ha riuscito, e questi qua di sinistra italiana avevano fatto finta di credere che tutto era vero, perché a loro serviva l'anti-Salvini da poter portare in Parlamento e dire dai, parla tu, distruggi, demolisci, fai sentire a quello là davvero le cose come... Ecco, quindi cara Elena Fattori, è semplicissimo la motivazione della costruzione del personaggio Soumaoro, è semplicissimo, doveva essere l'anti-Salvini perfetto, era perfetto, aveva proprio le physique du rôle per essere l'anti-Salvini, e poi, naturalmente, come aveva previsto anche quel parroco che ha scritto, dopo solo i 30 giorni dell'inizio della legislatura, viene fuori tutto, e a sinistra italiana gli dicono o te ne vai tu o ti cacciamo noi, e lui me ne vado io facendo finta che era lui che se ne andava, ovviamente non ha dato le dimissioni, eh no, dare le dimissioni vuol dire perdere lo stipendio, ma scherzate, quello continua a prendere lo stipendio per altri 4 anni, eh cari miei, altri 4 anni, intanto lui fa finta che non sia mai successo nulla, l'altro giorno faceva una conferenza su Mandela in Parlamento, lui sta cercando di far finta che non sia mai successo nulla, certo gli italiani hanno la memoria corta, lui l'ha capito perfettamente, gli italiani hanno la memoria corta e da qua a 4 anni potrebbe trovare qualche qualche partito che lo accolga per fargli fare altri 5 anni di legislatura, sarà difficile questa volta e ormai questo Somaoro è finito politicamente, non credo che il PD o Sinistra Italiana facciano finta che non sia mai successo quello che è successo, credo che ormai sia assolutamente finito, grazie a tutti e arrivederci a presto.